benvenuti amici siamo qui su just course 3 come vedete ho scaricato i dlc di mare terra e aria che sono compresi le armi al bavarium tutta l'area spettacolare col turbo e anche il nostro grande mech eccolo qua che sarebbe un robot in dotazione ovviamente dal dlc terra se non sbaglio quindi andremo a conquistare la porto le grazia perché penso che si legge grazia con la t e andiamo su con il nostro vecchio che sto facendo un po di pazienza allora bestia che figura saliamo saliamo sul mac entra nel veicolo per chi non lo sa è fichissimo ecco qua questo il mech il mech ha un sacco di potenzialità e ragazzi quindi distruggiamo tutto prendiamo tutto e via ecco qua quindi premuto il comandante da parte già sul comandante qua via via ok via anche tu via via e spacchiamo tutto via grazie potentissima il mech è unicidiale davvero dove è il comandante 300 e devo andare di là non è che senti arrivati col mech spacchiamolo da qua e li eh modestamente bellissimo perché col mech puoi prendere gli oggetti e scaraventare sugli altri puoi dare una botta di energia ecco che spazza tutti via cioè quindi sei diciamo sei indistruttibile puoi buttare giù questa la prendi e la scaraventiamo lì spacchiamo questo c'è quello da sopra c'è tutto qui ok andiamo questi barili mi fanno paura però eh perché comunque sia il mech si danneggia infatti vi abbia danneggiato perché non riesci ancora a vedere dove devo andare adesso dobbiamo spaccare le antenne le batterie e il ma chi è che mi spara io non lo vedo qualcuno sali di qua di qua guardate come corre il bello che si può anche potenziare via ecco qui vediamo questo qui si spacca da solo entriamo qui dentro anche questo si può prendere tutto dato che questa cosa può essere pericolosa noi la buttiamo giù non capisco chi è che mi sta sparando eccolo qua tu vuoi lì c'è qualcun altro che mi spara tu ma così vai diciamo così mi dai solo fastidio ecco adesso dove vado eh questo è il brutto del mech che non è che può andare ovunque allora noi lo usiamo finchè possiamo finchè meno che non si incastra andiamo di qua usciamo fuori torniamo indietro torniamo indietro a mech non mi fa far figuracce ecco qua ora giro di qui poi avanti qui frena a spena con le sgommate morite tutti quanti mi spiace amici ma io vi devo forza spezzare anche se non ci fanno i civili però va bene questo da fastidio mettiamolo lì mettiamolo lì mettiamolo lì ma ecco perchè pigli sti pausi andiamo da quest'altra parte attenzione non l'ho capita ma attenzione ma io devo salire andrà su giusto vediamo intanto facciamo un po' di caos che caos devo fare abbiamo visto qui intanto non ci serve chi è che spara eh è morito guardate la bellezza di questo mech che puoi prendere gli elicotteri come se ne fosse un giocato e sperimentarlo qui eh c'è un cecchino che mi sta appuntando oppure morire se lì è la batteria delle batterie da distruggere e ok le batterie sono andate via ci mancano le cisterne e ci mancano bello del mech che c'è una potenza di fuoco micidiale attenzione l'effetto di detriti disastri potrebbe causare danni eccessivi a vostro tecno ma no è quell'altro ma quando io stavo mi scherbacchi ecco qua spero di non doverle fare tutta sta strada dietro eh anche se no tu palle sto mech si incastra abbiamo spaccato un altro di questi prima di lì non ti mettere su un fuoco non dare in acqua non dare in acqua non dare in acqua chi altro c'è chi altro c'è perché qui mi stanno avendo il ponte eh che lo fate apposto lo fate ho scamazzato uno non sapevo mai come fuoco va poi chi altro c'è qui sono tutti morti che è peccato ah no devo chiedere questa ovviamente se no mi danno bastiglia e la lancio ora ci mancano le antenne dove stanno le antenne antenne vediamo un po' sulla mappa così almeno ne approfittiamo come tu non sai neanche dov'è si una è avanti a me una dietro a me e un'altra lì facciamo così andiamo indietro eccola qua eccola qui quindi indietro come ci vado non c'è da questo no 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 scendiamo apriamo qui penso che ho scancello scendi 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 vedi ho visto l'antenna fai su mac fai su mac non me frega ecco operatore riconosciuto oh ciao che ci fai lì immagino c'è un cittino lì aspetta 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 questo cosa dice si muove ecco qua ora prima antenna abbiamo distrutto l'altra antenna andò sta eccola lì la spacchiamo da qui tanto questo tanto di fuoco ci ha se riuscissi a pigliarla vai ecco qui la terza da come vedo è qua vediamo subito facciamo prima ecco vedi ok abbiamo conquistato porto la grazia ah ecco io io porto la grazia tanto ci volevo ma diciamo che è stato semplice e facile senza nessun problema senza nessun rischio attenzione l'impatto di detriti pesanti potrebbe causare danni eccessivi al vostro mac facciamo questo ma non ci serve adesso dove andiamo dove andiamo col mac vediamo subito dove andiamo col mac sentate che sta po' vicino questa è una città che però facciamo così andiamo qui cimaleon non lo so se cimaleon mi fa andare su cimaleon vabbè visto che ci troviamo se mi fa andare è bene se non mi fa andare paziente spacchiamo il il mac via intanto per strada continuo a spaccare un po' tutti quelli che trovo eccolo qui da questo mi da fastidio a me che mi serve e allora mi prenderà via e allora io qua non ci posso passare e allora non c'è più pensi un eh non c'è quindi c'è quindi va eccoci qui siamo arrivati a questa base all'entrata della base penso no? quindi ecco qui mattiamo quest'altra ah ragazzi con me che fighissimo che fighissimo prendiamo questi doppiamolo via spacchiamo questi qui base abbiamo preso cosa succede ma è non ci piace basta un colpo eh esplodono come i tai non so i tacchini perchè i tacchini esplodono oddio forza distruzione via ecco qua anche qui che sto ammazzando mettiamo quello mettiamo questo intanto morirà via via ammazziamo quest'altro finchè il mio mech regge non ce ne frega di niente prendiamo se tnt e buttiamo si magari mettiamo lì ma chi è? ma dove si sta? mi sono combinato io solo siamo qui c'è qualcuno su c'è qualcuno lì? c'è qualcuno lì? c'è qualcuno lì? c'è qualcuno lì? lì 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 non c'è nessuno chi è che io vi ho sparato? ah mamma mia mi stanno spaccando tutto il mech mi sto spaccando il mech io solo ma sembro il mech in posse rilevato impatto di detriti rilevato impatto di detriti cazzo allora pure quello che lo vediamo ah ecco lo distrutto vediamo è già un po' che figata vediamo vediamo non ce la fa per me non va per questi che voglio mamma mia che figata dove sei tu lo fai a spaccarlo facciamo subito lo spacchiamo subito che altro mi spara non mi rompete il mech non mi rompete il mech che succede un casino ok cerchiamo questo facciamo così andiamo lì la piglia la potenza del mechitosh andiamo qua prendiamo quella la bocchiamo di lì prendiamo questo chi è che spara chi è che spara oh chi è che spara eh qua ci manca poco mi ammazzano tutto il mech mi spalcano andiamo fuori scontenna evacuare va bene usciamo via scendi adesso prendiamo una bella cosa eccolo qua che cavolo faccio guardate qui è uscito provate subito il ribelle non fatelo scappare attaccare io della figura che devo fare io mamma mia allora al bavarium tutto al bavarium parto qui calma il bavarium unicidiale chi altro è che mi sta sparando vorrei capire oh ma insomma ce l'hai con me il tutto oh via questo mi ammazzano non voglio morire adesso scappa forest e sono morto va bene ragazzi allora dato che sono morto per non perdere altro tempo abbiamo visto un po' come il mech è fenomenale insomma comunque più andato avanti più te lo spaccano quindi ci vediamo al prossimo video spero che vi iscrivete al mio canale un bacione dal vostro Scionic ciao ciao